Ciao ragazzi, allora, oggi temperatura indecente, siamo sotto ma di tanto, siamo sotto meno 5, meno 6 gradi, vabbè, però non è quello, oggi non è la giornata ideale per il tema che andrò a trattare in questo video, solo che mi hanno fatto ieri la domanda e poi va a finire che me la dimentico di trattarla, e quindi vediamo, si parla di terricci e di granulometria, quindi un attimo la sigla, qualche secondo per iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, mettermi un like che mi fa sempre piacere, mi stimola a fare nuovi video, e poi partiamo con l'argomento. Dunque, si parla di granulometria, anzi, la domanda riguardava granulometria e nutrizione della pianta, però, vabbè, sono due cose completamente diverse, perché si parla di aria nel substrato, perché ci devono essere i gas, perché deve passare l'ossigeno. Allora, iniziamo, quindi già le due domande insieme non ha poi tanto senso, perché, allora, se si parla di granulometria ha uno scopo, se si parla di nutrizione, tutt'altro, non per forza deve essere collegata alla cosa. Iniziamo col dire che la nutrizione si fa su piante oramai stabili nel terreno, serve per aiutare la fertilità, diciamo, un sostegno alla fertilità, quindi, non per forza di cose, una pianta appena rinvasata, o invasata, o raccolta, deve avere, si debba puntare l'occhio alla nutrizione, per dire, che ne so, una pianta appena raccolta, se la metti in pomice, così va più che bene, anzi, concimi, oltre a non servire, sono controproducenti, se non che, vabbè, io ci metto un prodotto che, diciamo, va a colonizzare con dei funghi simbionti, quindi mi attiva il substrato, ci metto un po' di matrice organica, mi attiva il substrato, con una serie di funghi antagonisti e microrganismi, che sono utili, va bene, questo chiuso il discorso della nutrizione, magari ne parleremo poi un'altra volta. Granulometria, la domanda era più o meno questa, perché io vedo piante rigogliose nel bosco dove la granulometria è molto sottile, è terra proprio compatta compatta, e perché c'è questa ostinazione nel bonsai ad avere un'arieggiatura del terreno, non ha senso, io nel bosco vedo le piante crescere così e quella lì è la condizione ottimale. Non è così in realtà, perché diciamo che la pianta nel bosco ha una condizione di crescita che è compatibile con quell'essenza, cioè il semino è caduto lì, ha trovato un terreno compatibile, però potrebbe non essere la miglior condizione possibile. Noi nel substrato cerchiamo di ricreare la miglior condizione possibile. Per avere questo la pianta ha bisogno, la pianta respira, ha bisogno di ossigeno e lo assimila, lo utilizza proprio a livello radicale, lo assimila nelle radici. E quindi deve esserci una granulometria che consente uno scambio gassoso, consente la presenza di ossigeno. Vi faccio vedere ad esempio su delle piante in attecchimento. Allora, vediamo se riusciamo a capirci tra ruspa del vicino e campane del parroco. Vedete, questa è una pianta, oddio, era in attecchimento perché era mai attecchita, vedete che granulometria grossa. Adesso, siccome è la pianta attecchita, io ho aggiunto della matrizia organica, del materiale più sottile, perché non mi serve più così tanto scambio gassoso come prima. Però all'inizio ho lasciato tanta aree in modo tale che le radici potessero prendere forza e correre e strutturare un bel pane radicale. Quindi questa qua è una pianta, ecco qua si vede terreno originale, qua non ho ancora aggiunto niente. Vediamo, è proprio una pianta in fase di attecchimento o i suoi primi anni di vaso, bene o male come può essere un substrato ideale. Ecco, qui invece abbiamo a che fare con una pianta molto vecchia, invasa da tanti tanti anni e quindi la granulometria, adesso lasciamo perdere che è ghiacciata, no? Vedete com'è molto più sottile, perché comunque dovrà fare radici più sottili, non dovrà crescere molto perché comunque qua il rinvaso non lo farò più ogni anno, ogni due anni. Cioè dovrà essere, anche i tempi di rinvaso dovranno essere più lunghi e quindi dovrò far crescere meno l'apparato radicale, se no me lo riempie in un attimo. Però la pianta sta benone, adesso lasciamo perdere che a meno sei chiaramente ha una colorazione tendente a rossiccio. Però vedete come secondo anche lo stato di coltivazione della pianta mi serve una granulometria diversa qua, il ghiaccio ha fatto il suo, ok? Bene, quindi abbiamo visto che la pianta ha bisogno di ossigeno per far correre le radici, per farle sviluppare bene e anche perché? Perché tutto sommato il bonsai, col bonsai noi lo stressiamo sempre. Se noi avessimo un terreno molto compatto, specialmente per il tipo di lavorazioni che faccio io, che sono stressanti perché piego tanto i rami, magari scortico, stacco, riavvito, quelle cose lì, oppure anche, ma anche semplicemente chi fa uno styling con tanto filo, no? La pianta ne risiente sempre un po'. Ecco, l'apparato radicale deve essere sempre sano e forte e quindi non può avere un terreno come quello che avrebbe Natura, perché Natura ha un altro tipo di sollecitazione, un altro tipo di avversità, e nel vaso, nel caso del bonsai, probabilmente non lo sopporterebbe determinate tecniche. Non so, il bonsai per sua natura è sempre in una condizione di stress, è una pianta suscettibile, quindi dobbiamo cercare di dare il non plus ultra, cosa che in natura, magari, ecco, sostenere quelle condizioni non serve. Ok, niente, abbiamo visto anche il discorso del freddo, fa parte un'altra domanda ricorrente di questo periodo, magari lo tratto in un altro video, perché è importante dare il freddo, per ora fate dare il freddo, qua siamo a, stamattina a meno 6, meno 7, però a qualche grado in più va bene, comunque per un po' di freddo lo devono sentire, ne parleremo poi magari in un altro video. Vabbè, ragazzi, questo è tutto, non so, se volete, vi ricordo, se volete, per un vostro percorso didattico, riferimento studio bonsai in subria, abbiamo il forum bonsaiclam.it, abbiamo anche il canale telegram, fate vobis, anzi, il canale telegram, ci stiamo tenendo in contatto per future iniziative online, tutto quanto, fate voi, se volete seguire o meno, ciao, a presto.